Per rialzare il palco, c'è una questione di... ...e una questione... ...o la vita della popola del regolamento. Ma te, a 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 te. No, ma buona, a te. Ma è buona la tua mano, eh. Attenzione all'istruttura, ovviamente. C'è un attimo da testa. Il bel inchimare, però, non è. Benissimo, la te. Il bel inchimare, il bel inchimare, il bel inchimare. Il bel inchimare, il bel inchimare.